Ci siamo ragazzi! Speriamo che parta! 3, 2, 1... Devo iniziare il video così. Guardate che chicca! Vi devo far vedere una chicca perché ci ho messo tre giorni a trovarli. Voi pensate che io ho montato dei led sotto il bancone dove metterò poi sopra tutti i mezzi a due ruote? In realtà no ragazzi! Sono semplicemente delle luci per video della Ulanzi. Se volete vi metto il link sotto in descrizione. E guardate! Queste luci sono calamitate! Potete stabilire voi il colore! Veramente è una cosa faiga faiga faiga! Ma ci ho detto ragazzi! Direi di non perdere tempo e iniziare subito perché oggi andremo a cambiare e montare... No! Prima di tutto veri! Parla in modo corretto! Cosa c'è qua dentro? Ve l'avevo detto che saremmo andati a montare qualcosa di succoso! E così sarà ragazzi! Allora il mio nuovo carrellino che è qualcosa di super mega veramente ragazzi! Super mega power! Se volete vi metto anche questo qui in descrizione perché è pazzesco! Allora adesso andiamo a tirar fuori da là il mio banchetto da lavoro! Sto ancora allestendo ai ragazzi l'idiot's garage! Ce n'è da fare anche perché sono quasi 60 metri quadrati di garage! Dunque ne ho da mettere! Però andiamo a tirare fuori quel tavolo da lavoro che ha le ruote saldate da me! Venite con me ragazzi! Andiamo a prenderlo! Intanto per fare un po' di scena ho messo una luce qua! No! Devo prendere almeno altre due perché sono una cosa pazzesca! Guardate le ruote che ho sistemato io! Carrellino! Ok carrellino messo in posizione adesso vado a prendere il pacco su questo carrellino qua e andiamo a metterlo là sopra ragazzi! Ho pensato che è meglio aprirlo qua e dopo metterlo sopra perché così vi faccio vedere anche con le luci strane e dopo lo andiamo a mettere qua sopra per fare un unboxing! Pacco pacco delle mie brame! Ragazzi allora all'interno del pacco abbiamo... avete già capito di cosa si tratta! Oggi il video è inerente soprattutto a lei o a lui! Come volete definirlo? Il nuovo scarico aftermarket del buggy! Allora ragazzi ve lo faccio vedere un po' da vicino! Eccolo qua il nuovo scarico aftermarket del buggy! Andiamo a vedere intanto cosa c'è dentro ancora nel pacco! Dopo andiamo a testare il buggy con il vecchio scarico e poi andiamo a montarci questo per capire le differenze! All'interno io vedo già dei... Ok questi sono i braccetti con il loro pistolino qua dove si va ad ingrassare! Ho fatto un video anche sul quodo su come si ingrassa! Vedo là in fondo delle pastiglie! Ora ragazzi ve le ho messe tutte qua sul banco da lavoro in modo tale che possiamo andare a vedere effettivamente bene cosa c'è! Scarico! Questo qua credo che sia... Togliamo anche il credo! Deve essere sicuramente una pinza freno! Esattamente! Con i suoi pistoncini! Delle pastiglie nuove! I braccetti li abbiamo già fatti vedere prima! Qua dentro c'è senza ombra di dubbio e senza ombra di smentita un carburatore! E sti gran cazzi! Che carburatore! E' grosso come la mia mano! Rispetto al carburatore della mispa mela! Veramente enorme! Un'altra pastiglia nuova! Questa ragazzi direi che è nuova di pacca! Questa invece di nuovo non ha più niente! Ha fatto il suo tempo! Sta abbastanza nuova! Direi che è proprio nuova! Vari ed eventuali! Qui abbiamo un mille righe all'interno! E ragazzi non so cosa c'è qua dentro! E infatti come voleva si dimostrare! Avevo immaginato! Avevo immaginato! Come mai l'hanno cambiato poi? Questo sicuramente non è nuovo! Come mai è stato sostituito in blocco? Sembra neanche rovinato! Proviamo a girarlo! Ragazzi sarei stracurioso di andare ad aprirlo e capire come mai l'hanno cambiato! A prima vista dunque hanno messo dentro anche un pezzo di stoffa ovviamente per coprire... Dunque questo mi fa pensare che non sia rotto perché se io ti metto dentro un pezzo di stoffa per non fare entrare lo sporco se fosse rotto non lo terrei! Dunque come mai è stato cambiato? Sarebbe interessante andare sotto il mezzo sotto il buggy e vedere esattamente cosa monta adesso! Boh fatemelo sapere voi nei commenti ragazzi! Secondo voi come mai è stato cambiato? Comunque ragazzi io a questo punto direi effettivamente di occuparci del protagonista del video che è lo scarico, eccola qua la marmitta, un po' probabilmente nel montarla, si può scaldare con un cannello andremo a stringerla un attimo, bisogna capire se è stata allargata apposta per farlo entrare nel buggy se no non c'entrava oppure no, perché vedo che qua è stata saldata dunque probabilmente... Comunque andiamo a vedere adesso nel momento in cui andiamo a montarla andiamo a vedere! Ragazzi allora io direi che noi possiamo tranquillamente spostarci! Secondo me farà un bordello allucinante anche perché è totalmente aperto, proprio come piace a noi! Stile Acra, che non sarà un Acra, ricorda un po' l'Acra! Vai ci sta! Ragazzi adesso andiamo a testare il buggy con lo scarico originale, dopo andiamo a montare questo e vediamo come suona! Vi assicuro che il buggy, già adesso me ne sono accorto, tira certe bombe in rilascio che fa maura! Nella prima volta mi sono pure spaventato! Montare questa qua secondo me farà veramente venire giù i vetri! Molto interessante! Grazie a tutti! oi raga buongiorno 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 finalmente ci siamo è arrivato il grande giorno di provare il nuovo scarico questo sifolone che ho appena montato ci siamo adesso io farei così allora ragazzi ovviamente sono già rimasto a piedi un 4 5 volte salve vedete che abbigliamento cappuccio no voi non lo potete vedere ma vi dico io cappuccio berrettino da giovine comunque ragazzi allora qua sotto sotto lo zaino del veri cosa c'è anzi no sotto lì ebbene sì avete capito c'è lo starter perché questo sifolotto qua mi ha già lasciato a piedi una settantina di volte un problema di batteria per il resto va benissimo però devo metterci mano andiamo adesso ad accendere il quadro speriamo che parta se no gli devo dare una bustata e io vi metto dietro esattamente in questa posizione vi metto la fotocamera così sentirete voi il grido il tuono il bombardamento siete pronti ci siamo ragazzi speriamo che parta 3 2 1 ragazzi ve lo faccio scaldare un attimo dopo scasiamo come non ci fosse un domani che tuono ragazzi che tuono che tuono ragazzi raga vado a scasare vado a scasare saluti alla locale ragazzi il problema è che non ha l'indicazione della benza e dunque bisogna fare un po come si fa esattamente con l'ape per esempio con la pit bike andare a cazzum qui si apre il serbatoio si guarda dentro se c'è ancora benza se no o si gira con una tanichetta come faccio sempre sulla ginetta oppure bisogna stare attenti a non rimanere a piotti perché se si rimane a piotti con delle gomme che hanno praticamente questa bassa pressione perché ricordo ragazzi che queste qui sono gomme praticamente da quad identiche a quelle che vengono montate da quad contate che voi qui io le ho gonfiate a 0 6 mi sembra 0 7 e sono già alto perché se facessi solo fuoristrada le gonferrei anche a 0 4 0 5 lui pesa non avete idea di che fatica si fa a spostarlo immaginate di rimanere praticamente dispersi qua nel nulla senza benza sarebbero cavolicci amari ragazzi adesso io vi proporrei una cosa se ci state se siete d'accordo monto la insta 360 qua lo aggancio qua con l'aggancio qui con lo stick che arriva tipo qua e mi faccio fare un da solo un'auto ripresa come se avessi un drone che mi segue ci state dai allora vado a montare la insta 360 qua salto sopra e ci facciamo un garello da soli sempre soli e via si parte 3 2 1 in sella cioè in sella sul sedile vabbè insomma mi avete capito che goduria ragazzi che goduria vi è piaciuto fatemelo sapere sotto nei commenti mi raccomando ditemi un po' se vi è piaciuto se il sound vi piace se andiamo a fare altre modifiche voi ditemi tutto e io come sempre eseguirò i vostri ordini ragazzi veramente divertente certo l'ambiente suo ideale è proprio questo ragazzi cioè in mezzo al nulla in mezzo al niente in strada soffre è come un quad non sono nati per andare in strada però comunque sia ci si può lavorare l'assetto secondo me non va toccato perché questo qui lo utilizzerò prevalente è targato è allora io l'ho targato l'ho immatricolato però lo utilizzerò prevalentemente sicuramente in off road se non mi ingabbiano prima comunque ragazzi detto questo il video di oggi finisce qui spero che vi sia piaciuto veramente iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina ragazzi che è importantissimo perché youtube spesso e volentieri non manda notifiche lasciatemi un commentino qua sotto che come sapete io li leggo sempre tutti 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 smeshate di un pollicione all'insù così mi fate capire che ciò che sto facendo vi piace e noi ci vediamo a un prossimo video e il prossimo video sarà di presentazione di un nuovo mezzo che ho preso che è grande dieci volte questo e non dico più niente seguitemi su tiktok e seguitemi su insta mi raccomando soprattutto tiktok che sta andando fortissimo peace